è le streghe e il diavolo le streghe e il diavolo per sapere tutto sulle streghe si deve leggere questa opera la stirpe del serpente però questa opera è esaurita la vendono su all'asta su ebay ve la fanno pagare 180 200 euro però per fortuna presto la stirpe del serpente esce in una nuova versione nel catalogo di una bella casa editrice quindi presto ci sarà di nuovo a disposizione la stirpe del serpente in questa sua bella nuova edizione e per cui potrete sapere tutto sulle streghe le streghe il diavolo cari amici perché oggi il Corriere della Sera di oggi lunedì 6 maggio 2019 dedica un articolo alla riabilitazione delle streghe vedete la battaglia del pastore renano per riabilitare le streghe e sì le streghe si pensava che le streghe facessero l'amore col diavolo si 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 e c'era il sabbato sabba delle streghe sabba delle streghe e sabba sabba la festa delle streghe si è descritta molto bene questa festa delle streghe si è descritta molto bene nell'opera faust faust di johann wolf anche due te il faust il faust il faust e sabba delle streghe le streghe si riuniscono dinanzi al diavolo e poi c'è il bacio il bacio al diavolo però il bacio al diavolo viene fatto al sederino del diavolo al sederino del diavolo al sederino capito e le streghe ci andavano matte per il diavolo le streghe e questa ovviamente è la leggenda perché le streghe non ci sono mai andate col diavolo le streghe e la questione delle streghe nasce quando quando nasce il patriarcato il patriarcato appunto io vi ho mostrato questa mia opera la stilpe del serpente dove si parla del passaggio dal matriarcato al patriarcato e con la nascita del patriarcato nasce pure la questione delle streghe perché in patriarcato la donna è sottomessa è messa sotto quelle poche donne che non volevano stare sottomesse sottomesse e non piacevano al patriarcato e venivano chiamate streghe le streghe e circa queste donne che non volevano essere sottomesse e che venivano chiamate chiamate streghe e si diceva di tutto di più appunto si diceva che facevano l'amore col diavolo per cui quando poi nacque il tribunale della santissima inquisizione e quelle donne che erano chiamate streghe perché non volevano essere sottomesse non volevano essere sottomesse venivano chiamate streghe e allora venivano torturate affinché confessassero che avevano fatto l'amore col diavolo che avevano fatto l'amore col diavolo poi dovevano confessare se avevano goduto dovevano confessare come ce l'aveva il diavolo capito di che misura era il coso del diavolo venivano torturate e è chiaro che sotto tortura dicevano sì il diavolo mi ha visitata il diavolo mi ha posseduta il diavolo mi ha penetrata il diavolo mi ha fatto godere tanto tanto e c'era la confessione sotto tortura per forza e veniva tutto registrato tutto scritto per filo e per segno poi siccome aveva confessato la strega che era stata quel diavolo doveva venire bruciata capito doveva essere bruciata e le streghe sono state arse per secoli e secoli e secoli e sino a non moltissimo tempo fa e adesso si vuole riabilitare le streghe ma in sintesi le streghe erano delle farmaciste delle farmaciste le streghe sono quelli che hanno diciamo creato le prime medicine tramite l'erboristeria andavano nei boschi le streghe procuravano le medicine procuravano le medicine per le malattie beh insomma morale della favola questa è la situazione c'è chi vuole riabilitare le streghe ma io delle streghe però avevo già parlato in quest'opera hai capito la sirpa del serpente che adesso esce presto in una nuova edizione nel catalogo di una ottima casa editrice ok cari amici le streghe il diavolo gli inquisitori volevano sapere tutto beh volevano sapere tutto eh del diavolo di poco che ce l'aveva la strega goteva poco goteva tanto volevano sapere tutto gli inquisitori capito beh cari io qua vi lascio qua vi lascio e non posso far altro che dire che la prima la prima strega la prima strega nella storia patriarcale la prima strega con nome e cognome è Lilith Lilith la Lilith del vecchio testamento che fu la prima donna di Adamo e siccome Lilith non voleva stare sotto sotto Adamo sotto 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 allora Lilith se ne andò via abbandonò lo abbandonò Adamo e Adamo si mise a piangere ragioni per la quale il potentissimo Dio creò un'altra donna che si chiamava Eva e la creò sottomessa per cui Eva accettò di stare sotto e Adamo disse felice e contento va bene cari amici questa è la situazione ok questa è la situazione presto ci sarà la nuova versione della mia opera la stirpe del serpente che queste cose vedrete